Le circostanze della morte di Simone Ponza, gestore di un pub di Valdagno, sono state chiarite a distanza di un paio di giorni dalla disgrazia venuta venerdì sera nella sua casa in città. Il 52enne titolare del bar Al Grumo, a Maglio di Sopra, è deceduto in seguito alle lesioni riportate alla testa a causa di una caduta accidentale mentre stava rincasando salendo i gradini del condominio dove viveva. I dubbi legati alla morte improvvisa, come facile immaginare, uomo molto conosciuto da queste parti vista l'attività di esercente a contatto con la clientela, sono stati fugati dalla relazione della squadra di pronto intervento e poi dai carabinieri. Ponza avrebbe perso l'equilibrio inciampando su un gradino cadendo rovinosamente all'indietro riportando un trauma fatale. I soccorsi gli erano stati prestati subito da un vicino di appartamento che aveva udito un tonfo rumoroso fuori dall'alloggio trovandosi di fronte al corpo dell'uomo immobile sulla rampa. La chiamata al 118 immediata, in pochi minuti la squadra del SUEM stava già praticando le manovre di rianimazione al 52enne in fin di vita senza riuscire a salvarlo. Già all'indomani della disgrazia la notizia si è diffusa a Valdagno, in particolare tra i clienti più affezionati del Grumo che si trova in via Luigi e in Marzotto in una frazione dove bene o male tutti si conoscono. Nel weekend è apparso un cartello appoggiato alla vetrina insieme a biglietti e fiori multicolori per ricordare con affetto Simone, presenza fissa e gentile dietro al bancone. Gli autori insieme ai tanti che apprezzavano il barista saranno presenti di sicuro domani per il funerale. I componenti della numerosa famiglia Ponza si stanno facendo forza l'un l'altro in questi giorni di lutto con la moglie Barbara e i quattro figli ad accompagnare alle 15 domani il feretro fin sotto l'altare della chiesa di Maglio di Sopra.